Salve a tutti, sono Luna dal sito www.vidlab.it e cercherò di sviluppare questo videocorso di archeologia e storia dell'arte romana. Parlerò anche di recentissime scoperte, dato che gli scavi stanno andando avanti a Roma e dintorni. L'archeologia quindi va avanti giorno per giorno e quello che non sappiamo oggi forse lo sapremo in un futuro, o ciò che al momento sembra certezza potrebbe rimanere tale solo fino a nuove scoperte. La prima lezione sarà soprattutto introduttiva, parleremo all'inizio di storie e di miti della Roma Antica, e comunque i scenni storici ci saranno sempre nel corso delle lezioni, perché capire e saper leggere un monumento, un manufatto, una statua, eccetera, non è possibile senza saper contestualizzare quel dato monumento, manufatto, statua. Ovviamente questo perché ogni periodo storico porta con sé delle mode e dei gusti che cambiano gli stili artistici, e soprattutto un'opera artistica è sempre stata realizzata per qualche motivo ideologico, commemorativo, politico, di propaganda, eccetera. Quindi dobbiamo inquadrare l'oggetto di studio nell'ambito storico, per poter capire il come, il dove, il quando e il perché. Le lezioni seguiranno parallelamente un andamento per tappe e un andamento cronologico. Cominciamo il nostro discorso. Noi parliamo di Roma, ma Roma, prima di diventare una grande potenza, intorno al III-II secolo a.C., faceva parte di un complesso mosaico di diversi popoli che abitavano l'Italia. A partire dall'VIII secolo a.C., i greci colonizzarono l'Italia meridionale, quindi la Campania, la Puglia, la Calabria, formando quindi la Magna Grecia e la Sicilia. Le prime notizie letterarie sull'Italia ci vengono proprio dai greci, che seppur poco informati cominciarono ad elaborare racconti fantastici. Infatti proprio nell'VIII secolo si formò il grande ciclo di Omero, che contribuì ampiamente alla circolazione di leggende che legavano Oriente e Occidente. Nel VI secolo a.C., in particolare, il ciclo dei Nostoi, cioè i viaggi di ritorno dalla guerra di Troia, diffuse il racconto di Enea, il grandissimo eroe troiano, figlio di un uomo, il re Anchise, e di una dea, Afrodite, che a Roma sarà chiamata Venere, che reduce dalla guerra di Troia, arriva in Italia. Oltre ad Enea e Odisseo, ovvero Ulisse, sarebbero arrivati in Italia altri eroi greci, a cui si attribuirono fondazioni di città italiane. Queste tradizioni si formarono certamente perché i greci pensavano di essere culturalmente superiori agli altri popoli, che definivano indistintamente barbari, ma quando decidevano di assimilarli alla loro civiltà, allora per forza dovevano attribuirgli origini greche. In più, per i popoli italici, il prestigio dei greci era una grande attrattiva. Tra il III e il II secolo a.C. Roma conquistò le città greche d'Italia, e quindi la Grecia stessa, e per i vinti le leggende delle fondazioni greche erano ancora una volta un modo per assimilare la nuova potenza alla loro cultura, e quindi forse in qualche modo soffrire di meno la sottomissione. Con l'incontro di queste due culture si venne a creare una mescolanza tra le diverse versioni dei miti greci e le leggende locali, che pian piano trovarono un loro ordine, e nacque così il mito della fondazione di Roma così come lo conosciamo oggi. Esso venne diffuso dai primi scrittori romani, gli annalisti, cioè che scrivevano gli annales, resoconti storici della città dalle origini fino agli anni contemporanei agli scrittori. Solo nel tardo III secolo a.C. nasce quindi una letteratura latina, anche se i romani conobbero l'uso della scrittura probabilmente già dal VII secolo. Il problema del trovare un'organicità nelle varie tradizioni era di ordine cronologico. I greci, nel collegare Nea a Roma e a Romolo, non si erano molto preoccupati della distanza temporale fra la caduta di Troia, che era stata fissata al 1182, e la nascita di Roma, fissata all'epoca tra la fine del IX e la metà dell'VIII secolo. Il problema fu risolto dagli storici romani con l'introduzione e la valorizzazione degli elementi locali, con Lavinio e i trentari di Alba Longa, che era una località dei Colli Albani, che è un gruppo di rilievi a sud-est di Roma. Dunque, nonostante esistano piccole varianti, si arrivò alla conclusione che Nea sbarcò nel Lazio e sposò Lavinia, la figlia del re latino, e in suo nome e in suo onore fondò una città chiamata Lavinio, l'attuale pratica di mare. Il figlio Ascanio, chiamato anche Iulo, fondò Alba Longa, dove regnarono trenta re fino a Numitore. Il fratello minore di Numitore, Amulio, depose il re e costrinse la figlia di lui, rea Silvia, a farsi vestale per evitare la nascita di eredi al trono. Infatti le vestali, sacerdotesse della dea Vesta, di cui avremo modo di parlare, dovevano rimanere vergini. Ma il dio Marte rese comunque madre la donna, che ebbe i due gemelli, Romolo e Remo. Secondo quanto ci racconta lo storico di età Auguste a Livio, che ricordiamo che è nato nel 59 a.C. e morto nel 17 d.C. e che ha scritto i libri Aborbe Condita, cioè la storia di Roma dalle origini all'età contemporanea, la donna era stata assuprata, e poi, dopo la nascita dei figli, aveva dichiarato che il padre era Marte, forse per rendere meno turpe la propria colpa. Comunque sia, Amulio ordinò che i due gemelli fossero abbandonati nel Tevere, ma la cesta nella quale erano stati posti, galleggiando sull'acqua, si incagliò su una riva, dove i piccoli vennero allattati da una lupa, che li portò nella propria tana, dove la leggenda menziona anche la presenza di un picchio, e lupo e picchio sono animali sacri a Marte, dunque si ricollega al fatto che il dio era il padre dei gemelli. Lì li trovò il pastore Faustolo, che li prese con sé e li portò alla moglie Larenzia perché li allevasse. Sempre secondo Livio era possibile che questa Larenzia fosse chiamata lupa dai pastori perché si prostituiva, e da questo era nato lo sviluppo e il racconto prodigioso successivo. Divenuti adulti, dopo varie vicende, i due gemelli decisero di fondare una nuova città, e per decidere chi dovesse essere nel capo vollero prendere gli auspici, cioè interpretare il volo degli uccelli. Romolo scelse di farlo dal Palatino e il Remo dall'Aventino, ma ne nacque una disputa, e Romolo uccise il fratello, o lo fece uccidere da un luogotenente a seconda della versione, divenendo il primo dei sette re di Roma. Ancora Livio poi ci dice che era nota un'altra versione, in cui si diceva che Remo, per beffa, aveva scavalcato le mura appena erette, e quindi Romolo, pieno di rabbia, l'aveva ammazzato aggiungendo le parole di sfida, così d'ora in poi patisca la stessa sorte chiunque altro osi scavalcare le mie mura. In questo modo Romolo si impossessò da solo del potere, e la città appena fondata prese il suo nome. Dunque Roma nasce con il concetto di inviolabilità, circondata da un confine sacro, il cosiddetto pomerio, che segnava il passaggio da ciò che era fuori a ciò che era dentro, cioè definiva l'URPS, la città consacrata agli dèi. Neanche gli stessi militari romani potevano entrare con le armi in città, gli era permesso farlo solo in occasione delle celebrazioni dei trionfi. Il campo marzio, che più tardi divenne sede degli esercizi e delle assemblee dei militari, fu posto fuori dalle mura serviane, quindi fuori dal pomerio. Poi la tradizione ci dice che in primo luogo Romolo fortificò il palatino, sul quale lui stesso era stato allevato. Poi provvì dal popolamento della città, mediante l'istituto dell'asilo. Accolse cioè una moltitudine di uomini, tra cui banditi, ladri, a cui si dava l'opportunità di essere accolti in un luogo dove non fossero perseguibili per legge. Sto facendo questa lunga prefazione per far capire meglio alcuni fenomeni rilevati dall'archeologia nello studio della nascita della città. La tradizione va avanti dicendoci che Romolo dovette procurare le donne e i suoi uomini mediante un ratto, cioè un rapimento, poiché la richiesta pacifica agli altri popoli di contrarre il matrimonio era stata respinta. Livio ci racconta che Romolo organizzò dei giochi solenni in onore di Nettuno e allo spettacolo, che si svolse nel Circo Massimo, invitò tutti i popoli vicini. I Sabini, un popolo confinante dell'Italia centrale, venne al completo, con tanto di figli e mogli. Quando arrivò il momento previsto per lo spettacolo e tutti erano concentrati sui giochi, allora come convenuto scoppiò un tumulto e i Romani, a un preciso segnale, si misero a correre all'impazzata per rapire le ragazze. È significativo che i Romani posero l'episodio nel Circo Massimo, perché esso si trovava fuori dal Pomerio, e dunque fuori dalla città. Le donne furono prese da fuori e portate nella città, sotto gli occhi dei familiari rimasti impotenti. Poi ne nacque una guerra. In seguito Romolo si associò al trono il re Sabino Tito Tazio, e probabilmente la tradizione ci attesta a questo, perché la componente sabina fu molto importante a Roma, come quella etrusca.